Cittadini furibondi all'Aquila e Cratere 2009 per l'arrivo di oltre 40.000 cartelle per il pagamento dei bolli auto, molti relativi al 2009. In questi giorni la Regione sta inviando le cartelle. In molti parlano di vessazione, perché pretendere la tassa di possesso del 2009, dopo ben 14 anni, viene vista come una vergogna. Il pagamento della tassa va in prescrizione dopo 5 anni, ma in questo caso c'è una clausola, che a causa del sisma e quindi dell'interruzione, che non è un annullamento, fa decorrere i termini dal mese di gennaio 2022. Ma molti cittadini affilano le armi e si stanno rivolgendo a dei legali. Nelle note però c'è scritto che il periodo intercorso tra il 2009 e il 2022 non farebbe testo e non conterebbe a fini della prescrizione, a meno che la cartella non venga impugnata con le relative spese legali. La spiegazione è che la restituzione doveva avvenire al 40% in 10 anni da gennaio 2012 a dicembre 2021, quindi la prescrizione è al 31 dicembre 2024. Dice la sua il tributarista Luigi Fabiani, che spiega che comunque ci sono vari aspetti da considerare, anche quello morale. Se la pretesa è il 40% come previsto dalla normativa relativa alla sospensione delle tasse causa sisma del 2009, quindi con la ripresa degli adempimenti pagando il 40%, perché quella è una legge nazionale che vale per tutti. Dopodiché ci sono due considerazioni politiche e morali. Diciamo che proprio non si sentiva il bisogno di un ulteriore aggravio per un'imposta di 14 anni fa in capo ai terremotati e che sicuramente il momento non è dei migliori e tra l'altro c'è un altro aspetto che fa un po' ridere. Visto che si parla della rottamazione quater, se queste cartelle, ammessa la legittimità, ammessa la scelta politica e volerle recuperare, se fossero state notificate, cioè emessi ruoli, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe potuto accedere alla rottamazione quater e quindi quantomeno pagarle senza sanzioni ed interessi e in una forma rateale che almeno avrebbe addolcito la pillola.